Non ti sei stancato di vivere in albergo? Stai scherzando? Io non so come fate voi a vivere ancora nelle case. Gardini! Non le volevo chiedere un selfie, non è per me, è per mia moglie. Ma le sembra il momento. Scusi, ma comunque avrei inquadrato solo la faccia. Voilà! Che fa? Mi sto facendo licenziare. Adesso metto in modalità aereo. Pronto a godermi un bel viaggio in fronte. First class. Oh, guarda no. Ma che è il telefono di Gardini? Questo non è un telefonino, questo è il vero desiderio, questa è la lampada di Aladino, questa è la bacchetta magica di Harry Potter, questa è Simsalabim, abracadabra, questo è il bar in serie A. No! E adesso che succede? Io voglio il mio telefonino! Ma cosa? Hai ruttel cazzo questo telefonino? E basta un click per comprare tutto quello che vuoi. Tra quanto arriviamo a Sydney? 16 ore e mezzo. Si può scendere prima? Scarpe, vestiti, televisore, pure una panda. Tu però non fare tardi, per favore, che ho fatto tutti i fritti e poi dopo due minuti si ammosciano. Non so se ti ricordo qualcosa. Passa il mio... Ma questo conosce tutti i vips del pianeta? Ma viaggio Antonacci? Lo vuole capire sì o no che questa è una tragedia? Belen! Cristiano Ronaldo! Sono stati loro. Vedrà che sono persone affidabili. Ma rasti i minti, poloni Claudio Baglioni? Eh? Sto cazzo! Lui va in Australia, no? Scrivi un tweet contro gli australiani. Non sono stato io! Mi hanno rubato il telefonino! La macchina del fango! Io urlo quanto mi pare piace, va bene? Io avevo una vita fantastica. Voi me l'avete buttata nel cesto. Avete tirato lo sacco! Continuano le esternazioni di Diego Gardini. L'ultimo gravissimo tweet contro sua santità. Ma che hai combinato? Così è troppo. No, ma la sua santità no. Io l'ultimo ho scritto è contro il VAR. But boys, 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 I'm looking for a good time.